Ciao, questo qua sono io, Pietro. Cosa posso dire di me? Come tutti ho le mie passioni che vanno dai viaggi alle automobili, dalla musica ai videogiochi. Anche se qua sembro, anzi sono, un cretino che corre e si rotola su un prato, solitamente sono una persona abbastanza calma. Ma chi voglio prendere in giro? Ci sono sicuramente momenti in cui non sono al cento per cento, ma ho imparato a non preoccuparmi, perché prima o poi tutto passa, nulla è eterno. Quello che cerco di fare è di rendere la mia esistenza degna di essere vissuta, di essere felice. Non volevo finire a fare un discorso motivazionale, ma credo che l'ironia e il ridicolo siano collegati con i nostri momenti più bui. Nel mio caso sono le armi più efficaci per superarli. E spero di essere in grado di fare lo stesso con chi mi sta attorno, anche perché per me far sorridere gli altri è molto gratificante. Grazie a tutti per aver guardato il video.